In esclusiva italiana sarà affidato ai Construct, formazione turca che nell'ambito del circuito di improvvisazione europea ha conquistato ormai da tempo stima e rispetto. Il loro free è forte ed energico e strutturato attraverso una composizione sempre lucida ed inventiva. Hanno suonato con grandissimi musicisti free, fra i quali Ivan Parker, Peter Brozman e Marshall Allen, lo storico sassofonista di San Ra che stasera si unirà ai Construct per una collaborazione esplosiva. Grazie e buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.